Allora ragazzi, abbiamo un altro esempio di strapoggia. In questo caso abbiamo una barca più piccola, è un meteor, però si vede bene perché la barca va in strapoggia. Già in questa immagine vedete come il vento praticamente spinga, nonostante la barca sia con le muri a dritta, cioè il boma vedete che sta sulla parte sinistra, vedete. Il vento praticamente prenda lo spinnaker in questo senso e quindi spinga la barca a rollare sopra vento. Rollando sopra vento la prua andrà a sinistra in questo caso e quindi continuerà ancora di più lo spinnaker a spingere la barca a sopra vento e a scuffiare in questa maniera qui. Vediamo l'azione. Ecco, vedete, in barca stanno per rissare lo spinnaker, rissano lo spinnaker. Vedete che il tangone non è molto sbracciato, è abbastanza strallato, c'è vento importante, quindi per il momento non riescono ancora a gonfiare, ecco ora hanno gonfiato. Vedete come il tangone sia non troppo sbracciato, è abbastanza vicino allo strallo, questa è una posizione di sicurezza perché, fermiamo un attimo, perché in questo caso il vento prende la barca in questa direzione, in questa direzione, e quindi tutt'al più la barca tende a rollare sotto vento. La cosa si contrasta facendo praticamente una poggiata, il timoniere poggia e la barca riesce a non straorzare, scuffiando, quindi abbiamo detto sotto vento. Ecco. Vedete la barca va veloce, il timoniere guardate come muove il timone per cercare di tenere sempre la barca. l'albero verticale rispetto al pelo dell'acqua, se la barca sbanda sotto vento poggia. Il rischio qual è? Il rischio è che a un certo punto, vedi, ora stanno praticamente e vogliono strambare. Che fanno in questo caso? Apre un attimo il tangone. Il tailor sbaglia perché porta, fermiamo un attimo, ecco, vedete che il prodiere è pronto qui a staccare il tangone dal braccio. Vedete? Il tailor che cosa fa in questo caso? Per fare la strambata, anticipa la strambata cazzando il braccio. Cazzando il braccio lo spinnaker si sposta più a destra e quindi crea questo effetto di sbandamento della barca da sopravento. Ora vi faccio vedere. Ecco, apre il tangone. ecco che la barca è andata in strappoggia. Timone fuori, spinnaker in acqua, grande casino. Torniamo un attimo indietro e l'analizziamo. Ecco, questo è il momento critico. Cioè, in questo momento, se si continua a tirare il braccio in giù, a tirare il braccio in barca, lo spinnaker si sposta da questa parte e la pressione fa sì che la barca orzi repentinamente e si metta in scuffia. Per evitare questo, non dobbiamo cazzare il braccio. Rivediamolo. Ecco, se in quel momento, anziché cazzare il braccio, il braccio che è diventato una scotta nuova fosse stato mollato, la barca non sarebbe andata in strappoggia. ecco.